allora buongiorno risveglio con la neve l'alessandra non si è ancora svegliata va bene però non piove non piove ma nevica bellissimo nevica quindi stamattina un sveglio bianco ecco l'onestate viennesi per strada votano i soldi e prendono il giornale come noi la stessa cosa allora la prima tappa di questo secondo giorno la residenza di chombron la stima che bellissima oggi in questa atmosfera ecco oggi in questa atmosfera di neve e qui la guida diceva era il posto preferito a Sissi dove trascorreva mezzo tempo anche per dimagrire e allora non è il posto adatto a noi ciao ciao oh qui siamo nel retro del posto palazzo nei giardini bellissimi e grandissimi certo nella stagione primaverile e autunnale probabilmente è quella più bella però anche in queste giornate ecco così è una atmosfera molto molto bella molto bella ciao 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 e' mancabile è una tappa vista anche l'ora di pranzo al prater parco di divertimenti ecco no lassù proprio no parco di divertimenti della città adesso andiamo a vedere un ristorante particolare vediamo se vediamo se c'è posto oggi il cameriere è un robot giusto buongiorno Petrus! Allora adesso per smaltire il pranzo, l'autopranso, sentiamo una bella passeggiata qui su, vediamo che succede eh, andiamo! E' un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? Un po' che c'è un po' che c'è? Un po' è un po' che c'è? Allora diciamo che bellissimo il panorama però forse 340 scalini dopo pranzo, non sono consigliati. allora la tappa diviene ovviamente il caffè centrale ma questa è la fila per entrare pazienza ci vuole pazienza la stavolta non abbiamo fatto in tempo a fotografare la lo strudel è finito e qualcuno si è preso il caffè centrale la tappa è d'obbligo, un po' di fila, qui è il cameriere nostro bell'ambiente tappa fissa caffè centrale e al Viena e al Viena quando ordini quando ordini allora buona cena però un po caro però no 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 un po lenti però merita merita consigliato consigliato andate a nostro nome e noi andiamo a letto che ne pensate? io a piedi a letto buonanotte si chiude il secondo giorno penultimo giorno ciao ciao ciao